Continua il percorso tracciato in occasione dell'acquisizione del Terminal Container MCT, società controllata da MSC. Un nuovo step dell'attività di rinnovo del porto di Gioia Tauro, che vede oggi attraccare alle banchine dello scalo calabrese altre tre Megagru, anche queste in arrivo dalla Cina. Sono partite lo scorso 14 dicembre a bordo della nave Zenua 23 e hanno dovuto circumnavigare l'Africa perché troppo alte per poter attraversare il canale di Suez. Si tratta della tipologia di gru a cavalletto tra le più grandi al mondo, capace di lavorare navi da 24.000 Teus con uno sbraccio d'estensione di 72 metri e un'altezza di sollevamento di 54 metri. Sono entrate nel porto di Gioia Tauro grazie a un'operazione sinergica messa in atto tra la Corporazione dei Piloti dello Stretto di Messina, tutti i rimorchiatori in flotta nello scalo portuale calabrese, sotto il coordinamento della Capitaneria del porto di Gioia Tauro. Una volta giunte nello scalo portuale, le complesse fasi di sbarco richiederanno una decina di giorni circa di lavoro e saranno seguite da una fase di test che durerà alcune settimane. Grande soddisfazione è stata manifestata dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio Andrea Gostinelli, che ha evidenziato quanto è fondamentale tutto ciò per lo sviluppo dell'operatività portuale. Gioia Tauro è uno scalo portuale perfettamente attrezzato e infrastrutturato e sarà rivolta grande attenzione al capitale umano e alla forza lavoro, attraverso mirate iniziative che daranno centralità alla sicurezza delle operazioni portuali. Allo stesso tempo noi crediamo, ha concluso Agostinelli, che i futuri sforzi permetteranno la tanto attesa apertura dei contenitori nelle aree retroportuali, attraverso l'insediamento di imprese commerciali di settore.